amici bellini noi volevamo risolvere oggi no questa era la giornata che tutti aspettavano perché la decisione la sentenza l'appello e gli avvocati eccetera eccetera cominciamo insomma anche l'app one football ci fa sapere figici nessuna decisione oggi sui ricorsi di napoli e roma anche la roma anche la roma per il caso di avarà insomma pospone tutto voi scaricatevi l'app c'è il link in descrizione in basso in basso trovate anche il canale telegram dove io vi lancio le notifiche che youtube non vi dà perché chi si è già iscritto al canale telegram ha saputo in anteprima valerio fluido ha postato il video nuovo su caffè napoli 1926 è importante che tutti seguiate quel canale telegram in modo tale che noi scavalchiamo proprio la la cosa di youtube quando non ce ne arriva perché così tu puoi invitare anche tu tu puoi invitare anche gli amici tuoi nel canale telegram e ovviamente aumenta 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 la community ragazzi niente da fare sentite che cosa è successo io mi sono collegato in esclusiva con radio kiss kiss mi sono infiltrato nella radio ufficiale sentite un pochino cosa succede eccoci qui ben trovato a radio kiss kiss napoli avvocato come sta innanzitutto molto bene a voi ma non credo che sia però l'avvocato mattia grassani al al telefono è avvocato avvocato mattia grassa tutto bene a voi l'avvocato grassani tutto tutto a posto e insomma ora al di là di qualche problemuccio tecnico che c'è stato qualche infiltrazione che non ero io però mi ha fatto molto ridere ed era importante fare così il buon grassani ci fa sapere che hanno fatto tutto una con tutto una cosa bellissima durata lunghissima loro hanno esposto tutte le cose dei laurenti si è intervenuto da primo come primi insomma per fare la sua la sua ringa dove ha detto che praticamente non è solamente una questione di calcio una questione di buon senso di di legge in generale gli altri hanno portato gli altri casi si parla di 24 partite rinviate tutto intorno le asl che in queste ore stanno bloccando i giocatori che non possono andare in nazionale abbiamo gli altri esempi che abbiamo visto di chi l'ha fatto e poi ha preso il covid insomma c'è tanta carne a cuocere e per la prima volta questo è sono tutti sono tutte delle prime volte prima volta che succede questa cosa questa decisione qua prima volta che la sentenza non viene erogata nella sera stessa che di solito si fa perché si tutta la difesa tutto l'appello era già stato proprio procurato in questo caso no ci pigliamo qualche giorno non vorrei che fosse ancora qualche giorno per trovare altri cavilli altri cavalli altri cavalli altri cavelli e che andiamo nelle chiavette solite giusto per metterci dietro a noi non lo so loro hanno giustificato questa decisione dicendo che vogliono apporre ma a margine vogliono mettere anche delle motivazioni di solito si dice solamente respinto accolto invece no questa volta vogliono a seconda della decisione comunque spiegare il perché perché questo è un caso che farà giurisprudenza è un caso che creerà precedenti e su questo poi si baseranno altre decisioni in futuro la situazione ovviamente è fuori controllo è chiaro che il protocollo non funziona se poi le asli intervengono a volte sì a volte no quella di roma blocca a volte la lazio a volte la roma no insomma veramente siamo siamo nel caos più totale io volevo parlare di calcio noi ieri abbiamo fatto una live bellissima dove abbiamo affrontato insomma un pochino tanti tanti temi che riassumo brevemente si è parlato del del fatto che o spina rende tranquilla di più la squadra è che quindi il napoli si è potuto permettere di mettere in fuori gioco il bologna studiata bene da gattuso si è parlato del caso mario rui gulam dove gattuso io farò un elogio a gattuso continuo e totale perché metterli fuori squadra perché non si sono allenati bene nonostante tu ti togli due terzini sinistri vuol dire che c'hai le palle ti prendi la responsabilità se fosse successo un'espulsione qualcosa ristavi con il solo gulam e quindi dovevi con il solo mal qui e quindi ti saresti dovuto organizzare in emergenza abbiamo sempre racmani caro il pidio quindi in questo caso non c'era problemi però lui decide di lasciarli e di convocarli cioè non è che restano a casa devono venire devono farsi la trasferta e al freddo in tribuna perché fanno parte della squadra non è che te ne stai a casa al calduccio due palle così gattuso enormi enormi quindi va bene così si è parlato di fabian si è parlato di bagaio co coppia che quanto pare funziona io insisto che fabian ieri ha fatto una partita straordinaria anche di interdizione perde una palla quella di che poi porta all'occasione clamorosa di orsolini però è anche è anche da dire che nella reazione che non so se avete visto la reazione molto bella che andate a vedere da infarto che ho postato dopo la partita fabian prende tre calci in quell'occasione lì e quindi era da chiamare un fallo arbitraggio scandalosissimo che fai chiami il fallo di mani di osimen però non valuti la trattenuta che porta al fallo di mani di osimen 15 annulli un gol a calidù che l'aveva chiusa e ci avrebbe fatto giocare il resto della partita senza il patema d'animo finale praticamente poi dopo c'era anche un fallo da rigore su culibali in successivo insomma veramente arbitrariamente è successo qualsiasi cosa non vogliamo piangere su un fatto del tipo vogliono affossare il napoli se ce l'hanno con noi eccetera eccetera non lo voglio dire anche se l'anno scorso con mertens lo abbiamo visto cose incredibili no spero che non sia una situazione simile anche quest'anno perché lo sapete che quando parla dell'aurentis fa più danni che altro tu ne devi parlare piano come fa marotta ogni volta che succede qualcosa quando vinci quando perdi specialmente quando vinci ieri bisognava dirlo e non l'ho sentito napoli probabilmente era impegnato mentalmente su questa questione della sentenza che si rimanda tra due o tre giorni non si sa altri casi di cui abbiamo parlato ieri mertens piuttosto che che lozano insomma ragazzi la squadra c'è la squadra se non avesse questi tre punti in questi quattro punti in meno sarebbe prima in classifica in solitaria se avessimo vinto ovviamente allora noi facciamo conto che abbiamo perso con la juve facciamo conto che capita la giornata storta loro fanno la giornata perfetta e tu perdi con la juve a torino ci sta il napoli perde quindi togliamo di nuovo questi tre punti ma guadagna il punto di penalizzazione assurdissimo proprio la beffa e allora con quel punto tu stai ancora più vicino al milan e te la giochi veramente alla grande nonostante hai regalato tre punti alla juve insomma c'è da essere soddisfatti e contenti fino ora e noi analizzeremo tutte le cose che devono essere analizzate giorno dopo giorno adesso c'è la pausa io mi sto organizzando ecco perché vi dovete iscrivere lasciare il like e cliccare sulla campanella tutte le notifiche perché sto organizzando una live con lo zoccolo duro grandissimo youtuber milanista in preparazione di napoli milan insomma voi sapete ce n'è ce n'è su questo canale ce n'è ce n'è di ogni ed è ce n'è per tutti un ringraziamento speciale da tutti i miei supporter vi abbraccio da new york valerio fluido e tutto io sono abbastanza soddisfatto la sentenza poi vediamo a me mi basterebbe fateci perdere non fa niente state però quel punto di penalizzazione non mi va non mi va non mi va amici bellini vi siete iscritti al canale lasciate il like se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi e se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo estrazione a sorte si chiama giveaway da brooklyn valerio solido no saverio solido non mi ricordo non mi ricordo